I cittadini di 99 comuni abruzzesi domani si presenteranno alle urne dalle 7 alle 23 per scegliere il loro nuovo sindaco nell'Election Day dedicato anche al voto per il rinnovo dell'Europarlamento di Bruxelles. In provincia dell'Aquila saranno 7 i comuni al voto, 51 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 22 in provincia di Teramo. Tre invece i centri interessati dal doppio turno, su tutti Pescara, la città più popolosa d'Abruzzo, ma anche la vicina Montesilvano e Giulianova, l'unica tra i tre centri principali, a non essere arrivata la scadenza naturale della consigliatura per le dimissioni del sindaco Francesco Mastromauro con l'arrivo in città di un commissario Eugenio Soldà. In tutti gli altri comuni al voto niente ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti soglia che la legge pone come limite per l'espletamento dell'eventuale ballottaggio qualora nessun candidato raggiunga il 50% più uno dei voti validi. Per quanto riguarda Pescara sono in otto a contendersi la fascia da primo cittadino. Carlo Costantini alla guida di un polo civico denominato Faremo Grande Pescara, Carlo Masci per il centrodestra, Erika Alessandrini per il Movimento 5 Stelle, Gianluca Baldini per riconquistare l'Italia, Stefano Civitarese per coalizione civica per Pescara, Marinella Sclocco per il centrosinistra, Mirko Iacomelli per Casa Pound ed infine Gianni Teodoro per l'Iste Teodoro per Pescara. In totale nel capoluogo adriatico sono state presentate 17 liste e sono 515 candidati ad entrare in consiglio comunale. Nella quarta città d'Abruzzo per popolazione Montesilvano invece sono in tre a contendersi la fascia di primo cittadino Ottavio De Martinis per il centrodestra, Enzo Fidanza per il centrosinistra e Raffaele Panichella per il Movimento 5 Stelle. A Giulianova la sfida conta invece 5 candidati alla carica di sindaco, sostenuti da 16 liste per un totale di 234 candidati. Pietro Tribuiani è il candidato del centrodestra, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Idea e Forza Italia. Franco Arboretti è sostenuto invece dalla lista cittadino governante Giulia Viva con Franco Arboretti e per Giulianova con Franco Arboretti sindaco. Gabriele Filipponi è il candidato del Partito Democratico, l'ex Forza Italia Iwan Costantini è appoggiato da movimenti civici e laici che sono verso Giulianova Turismo, Giulianova in movimento, Iwan Costantini sindaco, azione politica, l'altra Giulianova al centro della città. Infine c'è Mauro Di Crescenzo che si candida per il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda lo scrutinio delle schede, nella notte subito dopo la chiusura dei seggi si effettuerà lo spoglio delle europee. Nel pomeriggio invece ci sarà spazio per lo spoglio delle comunali. TV6 a partire dalle 14.30 seguirà con collegamenti da Pescara, Montesilvano e Giulianova lo scrutinio per aggiornarvi in diretta sui comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco.